E' ormai ufficiale. Alternativa Popolare ha scelto con chi schierarsi in vista delle elezioni amministrative di Catanzaro. Dopo aver valutato tutte le possibili prospettive politiche e tenuto conto delle trattative locali in atto, ha ritenuto di coniugare il proprio percorso politico con quello del centrodestra, guidato dal sindaco uscente Sergio Abramo. La tentazione di appoggiare il candidato DEM Enzo Ciconte c'era, ma il movimento Catanzaro da vivere del senatore Piero Aiello, scegliendo di voltare a destra, ha forse fatto la scelta più naturale. Decisivo l'incontro di ieri a Roma nella sede di Alternativa Popolare tra il presidente del partito Angelino Alfano, il sottosegretario Antonio Gentile e il senatore Aiello. In una nota, Alternativa Popolare precisa però che tale processo andrà verificato e approfondito, in modo da superare le divergenze che hanno caratterizzato gli ultimi anni della passata consigliatura. Nello stesso tempo rimane fermamente convinta di poter garantire ancora una volta un percorso leale di governabilità nell'esclusivo interesse dei cittadini. Da oggi mi sento più forte, è stato il commento del sindaco Sergio Abramo, che ha accolto con grande soddisfazione la decisione di Alternativa Popolare per una serie di motivi. Tra tutti, quello forse più importante, dichiara Abramo, è che questa decisione consente di riannodare i fili politici e umani tra persone che hanno condiviso per anni un percorso comune, assumendosi nel 2012 la pesante responsabilità di far ripartire la città. A questo punto, l'obiettivo dei due principali candidati a sindaco, Ciconte e Abramo, sempre che non ci siano altre sorprese e che il consigliere regionale non decida di fare un passo indietro. Resta quello di prevalere senza il ballottaggio, ma di certo sarà un'impresa non da poco. Rossella Galati per l'AC News 24.